Scuole di ogni ordine grado chiuse a Teramo fino a lunedì. La decisione è arrivata nel pomeriggio da parte del sindaco Maurizio Brucchi dopo una serie di attente valutazioni. Dovrebbero riaprire martedì mattina. Il maltempo ha indotto anche altri sindaci di altri comuni a firmare ordinanze con cui mantengono la chiusura delle scuole. Le scuole che dunque lunedì non riapriranno dopo le vacanze e natalizie. È il caso di alcuni primi cittadini di Roseto, Sabatino di Girolamo e di Giulianova Francesco Mastromauro che hanno concordato la chiusura delle lezioni per evitare disagi negli spostamenti. Le attività didattiche e amministrative sono sospese per lunedì 9 gennaio in tutte le scuole pubbliche e private. I comuni si riservano un ulteriore provvedimento analogo per il giorno successivo dove dovessero permanere le avverse condizioni meteo. Analogo provvedimento è stato adottato ad altri dal sindaco Stolfi. A Mociano il sindaco Galiffi ha emanato una simile ordinanza in quanto le previsioni e l'attuale situazione potrebbero non permettere il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, idem Morrodoro e Pineto. La decisione è finalizzata ad evitare ogni disagio anche nel caso in cui, come si prevede, le condizioni climatiche migliorino a partire da domani.